Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, munitevi come al solito di carta e penna e oggi ci addentriamo in uno degli avvenimenti più importanti del ventesimo secolo, la rivoluzione russa. Prima però di parlare della rivoluzione vera e propria è necessario fare un quadro della situazione sociopolitica della Russia nel diciannovesimo secolo. Qual era la situazione della Russia? La Russia era senz'altro tra i più arretrati paesi europei dell'epoca, era un territorio immenso, un territorio multietnico dove vivevano minoranze perseguitate ed era retto da una monarchia assoluta, la monarchia assoluta dei Romanov. I Romanov avevano appunto creato una monarchia nella quale non era spazio per nessun tipo di opposizione di tipo politico, quindi nessuna forma di dissenso era accettata e il paese era un paese sostanzialmente agricolo, cioè l'80 per cento, il 90 per cento della popolazione era costituita da contadini. Ma soffermiamoci appunto sulle caratteristiche dell'economia della Russia nel diciannovesimo secolo. Intanto, come vi ho già anticipato, vi era una profonda arretratezza nelle campagne. Questa arretratezza era dovuta alle tecniche che venivano utilizzate, che erano tecniche antiquate, che quindi non davano alcuna resa, davano una resa poverissima. Inoltre, il 90 per cento della terra era in mano a poche famiglie nobili e i contadini che vi lavoravano vivevano in condizioni di miseria, in condizioni di degrado. Veniva ancora praticata la servitù della gleba, nonostante in realtà fosse stata abolita formalmente, solo formalmente, da Alessandro II nel 1861. In realtà, appunto, era una consuetudine che veniva ancora praticata e secondo la quale i contadini erano legati alla terra che coltivavano e, diciamo, dovevano pagare un fitto al nobile per il quale lavoravano e erano obbligati anche a determinate prestazioni di lavoro, le cosiddette corve prestazioni gratuite. Ovviamente, a differenza degli schiavi, diciamo, non erano vere e proprie cose, erano persone che potevano, appunto, avere qualche diritto, la proprietà privata, potevano avere la possibilità di sposarsi e di lasciare in eredità la loro terra ai figli. Quindi questa era sostanzialmente la situazione delle campagne russe dell'epoca. Ovviamente vi erano anche delle zone con una leggera industrializzazione. Questa industrializzazione era concentrata attorno a poche città ed era sostenuta da capitali stranieri, cioè lo Stato russo aveva contratto dei debiti per poter, diciamo, avviare i primi stabilimenti, aveva contratto debiti con le banche occidentali. Quali erano queste città più industrializzate? Intanto Mosca, con la sua industria tessile, San Pietroburgo con l'industria metallurgica e Baku per i suoi giacimenti di petrolio. Quindi queste poche aree erano aree in cui c'erano prime forme di industrializzazione. Da un punto di vista politico, il regime assoluto dei Lozar non aveva impedito la formazione di partiti politici di opposizione, che però dovevano agire ovviamente in clandestinità. Quali erano questi partiti politici? Intanto c'era il Partito Socialista Rivoluzionario, che aveva avuto origine dal populismo che si era diffuso in Russia nella seconda metà del XIX secolo e che voleva la creazione di una società egualitaria, non industrializzata, nella quale avessero, diciamo, la priorità le esigenze dei contadini. Quindi il movimento populista era un movimento che voleva arrivare proprio all'abbattimento dello Stato, che avrebbe dovuto essere sostituito da comunità agricole. Questo era l'obiettivo. Ovviamente quando utilizzo il termine populista lo utilizzo in un'accezione diversa da quella che avrà poi nel XX secolo, perché successivamente appunto il termine populista verrà utilizzato per indicare quei movimenti politici che cercano di ottenere facili consensi nella popolazione mediante promesse, insomma, di difficile attuazione. Quindi da una parte vi era appunto questo movimento, il movimento populista, il partito social rivoluzionario. Dall'altra c'era il partito socialdemocratico, partito socialdemocratico che era di ispirazione marxista, cioè prendeva spunto dalle teorie di Karl Marx, di cui avete avuto occasione di parlare nel precedente anno scolastico. Il partito socialdemocratico russo si suddivideva al suo interno in due correnti, vi erano i menschevichi e i bolshevichi. I menschevichi, letteralmente vuol dire i meno, la minoranza in russo, erano quella parte del partito che credeva fosse necessario arrivare a uno stato sì socialista, ma attraverso una gradualità, attraverso riforme, attraverso alleanze con la borghesia. Insomma, la Russia non era ancora pronta per una rivoluzione, perché appunto il suo stato di arretratezza e l'industrializzazione ancora molto limitata non la consentivano. Quindi la Russia avrebbe dovuto arrivare al socialismo attraverso le riforme, attraverso una certa gradualità. Dall'altra parte vi erano appunto i bolshevichi, che poi diventeranno in seguito partito comunista dell'Unione Sovietica. I bolshevichi avevano a capo l'influente figura di Lenin e i bolshevichi volevano arrivare appunto allo stato comunista attraverso la rivoluzione, una rivoluzione che avrebbe avuto come protagonisti i contadini e gli operai, una rivoluzione che avrebbe dovuto portare alla dittatura del proletariato. La società che poi avrebbe dovuto successivamente crearsi, la società comunista, è una società senza proprietà privata con la collettivizzazione dei mezzi di produzione. Quindi questi erano gli obiettivi del partito bolshevico. Ma quali sono le tappe che mostrano il progressivo crollo degli zarre che portano alla rivoluzione russa vera e propria? Possiamo individuare per quanto riguarda queste tappe due date fondamentalmente. La prima è il 1905. Il 1905 è una data importante perché è in corso una grave crisi in Russia in seguito alla guerra contro il Giappone per il possesso della Manchuria e della Corea. A causa di questa guerra vi erano appunto in corso proteste, scioperi, cortei di migliaia di persone che si avviavano appunto verso la residenza dello zarre per protestare. Ci furono dei veri e propri movimenti di rivolta contro lo zar Nicola II e in particolare il 22 gennaio del 1905 si presentarono questi protestanti davanti al palazzo dello zarre e furono presi a fucilate. Fu la cosiddetta Domenica di Sangue e fu un episodio appunto di grande insomma molto significativo, molto forte che portò nonostante la reazione da parte dello zar molto forte portò però anche a dover concedere qualcosa. Nicola II si trovò nella condizione di dover concedere un po' di libertà, un po' di libertà di stampa e la Duma ad esempio cioè un parlamento anche se con poteri molto limitati e che poteva comunque essere sciolto dallo zarre in qualsiasi momento lo desiderasse. Lenin in quell'occasione, nell'occasione di queste proteste dovette fuggire per evitare l'arresto. Quindi 1905 data fondamentale, fondamentale per questo episodio della cosiddetta Domenica di Sangue ma fondamentale anche per la creazione del primo Soviet. Che cosa vuol dire Soviet? Soviet in russo significa letteralmente consiglio quindi con la parola Soviet si fa riferimento ad assemblee e consigli con rappresentanti eletti tra i lavoratori, tra gli operai oppure nell'esercito. Quindi una forma di democrazia diretta. Questi Soviet avranno molta importanza nel corso della rivoluzione vera e propria come vedremo tra poco. Altra tappa fondamentale, altra data significativa per arrivare poi alla rivoluzione del 1917 è la data del 1915. 1915 è data importante perché la Russia è ormai entrata nel primo conflitto mondiale malgrado l'insufficienza negli armamenti, l'impreparazione militare ed è entrata pensando di, come già sappiamo dalle lezioni che abbiamo fatto sulla prima guerra mondiale, è entrata con l'idea di poter ottenere dei territori nei Balcani. Ma nel 1915 appunto subisce sconfitte importanti contro i tedeschi e contro gli austriaci. È quindi un momento molto difficile per la Russia. Ci sono proteste ovviamente in corso sul territorio, la popolazione civile vive mesi di sofferenza, di miseria e di difficoltà per il rincaro degli alimenti e dei generi di prima necessità e quindi inesorabilmente ci si avvia alla data che tutti conoscete, nel 1917. Nel 1917 inizia la rivoluzione vera e propria che possiamo suddividere in due fasi, la fase di febbraio e la fase di ottobre. La prima fase della rivoluzione è quella appunto di febbraio che porta a risultati più moderati. Rivoluzione di febbraio secondo il calendario russo perché secondo il nostro calendario appunto si verifica invece a marzo. Quindi rivoluzione diciamo di febbraio secondo il calendario giuliano, rivoluzione di marzo secondo il calendario gregoriano. In questa rivoluzione che cosa vediamo? Che cosa accade fondamentalmente? Gli operai manifestano perché, come abbiamo capito dall'analisi della situazione, la situazione sta diventando insostenibile, quindi chiedono pace, chiedono pane, chiedono appunto che la Russia esca dalla guerra. In quell'occasione lo zar Nicola II manda l'esercito a sedare le rivolte ma le truppe in questo caso si schierano a favore degli scioperanti, dei dimostranti e Nicola II si trova quindi costretto ad abdicare, lascia il potere al fratello Michele ma questo si rifiuta e quindi viene a crearsi a questo punto un vuoto di potere. È la fine del potere degli zar e in questo vuoto si creano due diverse forme di potere tra loro in opposizione, tra loro molto distanti. Da una parte vi è il governo provvisorio, dall'altra vi è il soviet dei deputati operai e dei soldati. Di che cosa si tratta? Il governo provvisorio è un governo che si trova ovviamente fin da subito ad affrontare una situazione molto difficile, molto complessa con i contadini che chiedono terre, con la guerra in corso ed è un governo che intende creare uno stato liberale quindi è sostenuto dai borghesi, dagli aristocratici ed è presieduto da un principe, il principe Elbov. Il ministero della guerra invece è affidato a Kerensky e il ministero della guerra nello specifico vuole che cosa? Vuole la continuazione della guerra in corso della prima guerra mondiale per onorare le promesse fatte dallo zar, quindi vuole continuare la guerra a fianco dei paesi dell'intesa. Questo è quello che porta avanti ciò che porta avanti il governo provvisorio. Dall'altra invece, opposto ad esso, antitetico rispetto ad esso, vi è appunto il soviet dei deputati operai e dei soldati che subisce l'influenza dei bolshevichi e che vuole invece che la Russia esca immediatamente dalla guerra e vuole arrivare alla dittatura del proletariato e allo stato comunista. Quindi queste sono le due diverse forme di potere che vediamo porsi in questo momento molto difficile per la Russia, perché è difficile perché appunto il governo provvisorio vuole sì la continuazione della guerra ma allo stesso tempo non riesce a gestire tutte le rivolte in corso nel paese e la tensione che caratterizza in questo momento la Russia. Tensione che porterà alla rivoluzione russa vera e propria, la rivoluzione cioè di ottobre del 1917, rivoluzione appunto anche in questo caso di ottobre secondo il calendario russo ma novembre secondo il nostro calendario. Su questa fase però ci soffermeremo nella prossima lezione nella quale appunto approfondiremo il tutto fino ad arrivare agli esiti della rivoluzione. Intanto vi auguro un buono studio e come al solito non esitate a scrivermi nel caso ci fossero domande o richieste di approfondimenti. A presto ragazzi!